Regà, regà, adesso è ufficiale, è ufficiale, sono stati loro, ecco, i laziali hanno incrociato Cristo, non siamo stati noi, non siamo stati noi, oggi qualcuno mi diceva, ma come vanno, come va, come fa Gesù Cristo a tifare Roma se l'avete messo in croce, sono stati i laziali, mamma mia regà, erano laziali, effettivamente loro sono andati prima, quindi, insomma, ai tempi di Gesù Cristo noi ancora non c'eravamo, siamo andati 27 anni dopo, per fortuna, Cristo, capite bene che, però, a parte queste cazzate, no, io qui alla mia testamento OneFootball, mi aiuto con OneFootball, che sapete, durante le partite mi aiuta sempre, regà, regà, allora, non me l'aspettavo mai, non me l'aspettavo mai, io fossi un tifoso naziale, e non lo sono, per fortuna, sarei, a parte per fortuna, stupido, regà, la Roma è una merda, ok, sarei incazzato nero, sarei incazzato nero, sarei incazzato nero, 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 Cioè, come Caicedo, santo iddio, quanto sarei incazzato, cioè, giochi in casa contro il Chievo Verona, e vai a perdere, e vai a perdere, e vai a perdere, e ti segnano vignato, vignato, che comunque in primavera fa tanta roba, ma, primavera è una cosa, prima squadra è un'altra, e ti segnaete mai, Cioè, ragazzi, poi Milinkovic e Savic, che impazzisce, perché probabilmente l'hanno già venduto, oppure, insomma, non lo so, però, nel senso, quando ti giochi la Champions, queste partite vanno vinte, vanno vinte, non ci stanno cazzi, tu entri in campo, così, concentrato, chiedi una capocchia, così, e mandi a casa tutto, Chievo, già retrocesso, io, regà, amici laziali, io le capisco bene, noi abbiamo perso uno scudetto con Lecce, retrocesso, ha fatto otto punti, quell'anno, abbiamo perso, abbiamo perso, abbiamo perso certe cose, abbiamo perso, Partite con squadre retrocessi dal 2008, e era il 2012, quindi, quindi no, vi capisco benissimo, vi capisco benissimo, però, ragazzi, oggi la Lazio, io pazzesco, non me lo sarei mai aspettato, a parte che tanto se stasera la Roma non vince, poco, poco tiriamo fuori, poco, poco, però, quantomeno, vai a fare lo scontro diretto con l'Inter, e la Lazio non ha fatto punti, e il, il Milan ne ha fatto solo uno, Mi sembra tanta roba, mi sembra tanta roba, quindi sono contento così, quindi sono contento così, no, ragazzi, mamma mia, mamma mia, oggi, stagionata non ci arrivo alla fine, tra l'altro adesso sto andando da Gabbo, sto mettendo in macchina, perché stasera sono da Gabbo a guardarmi Inter Roma, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, tanto noi ci vediamo anche per Fiorentina-Juventus, devo correre, devo arrivare in tempo per Fiorentina-Juventus, anzi, Juventus-Fiorentina, iscrivetevi al canale, grazie per questo video, boccia, la like, noi come sempre, ci vediamo al prossimo video.